Piccolo, leggero, facile da usare e con un nome dedicato al dio del vino. Ecco presentato alla 43esima edizione del Vinitaly il Bacco Box, un mini etilometro portatile nato per testare il proprio tasso alcolico prima di mettersi alla guida. Si accende e sul piccolo display compaiono le istruzioni per l'uso. Alcuni secondi di attesa e poi ecco la scritta Soffiare. Si soffia nella cannuccia a monouso e dopo qualche attimo il tasso alcolico è indicato. Creato in Toscana, regione simbolo della cultura dei buon bere prodotto dall'Avumap, si propone di dare una mano al consumo consapevole. Potrebbe diventare un oggetto d'eredamento per wine bar e ristoranti o per gli appassionati di vino che non vogliano rinunciare alla sicurezza, accessorio da tenere in auto. Sei in regola.